La provincia che ha voluto fortemente condividere con questo territorio, con i propri rappresentanti, un progetto che va nella direzione di aumentare la qualità della vita, la sicurezza della viabilità e soprattutto dell'adeguamento alla modernità di una rete viaria che lasciando la vecchia sede per caricarsi su un altro versante corrisponde di più a quello che è davvero il progresso, la modernità, la necessità, la sicurezza, la qualità e anche mantenendo alto il rispetto del paesaggio e della qualità ambientale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.